Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine solito, usuale, consueto della mia libreria. Allora, si torna a parlare di armi da fuoco classiche della Seconda Guerra Mondiale, ma questa volta, per vostra fortuna, vi risparmio gli errori e gli orrori del generale Kijiro Nambu perché andiamo a parlare di un'arma sovietica. Allora, di un'arma che, diciamoci la verità, è una delle icone della Seconda Guerra Mondiale, di una delle armi da fuoco più riuscite probabilmente della storia. Perché parliamo, scusate, sbagliato già pagina, eccola qui, dicevo parliamo, per la precisione, del PPSH, del moschetto automatico PPSH modello 1941G. Il famoso, il leggendario, il classico, l'immortale Pepe Shah. Eccolo qua. Un mitra che, come dire, ha rappresentato il simbolo delle armi sovietiche durante la Seconda Guerra Mondiale, indubbiamente. Come dire, come ci spiega Wicks, l'Unione Sovietica adottò l'idea dei mitra piuttosto in anticipo rispetto a tutti gli altri paesi europei e nel 1934 ci fu un progetto Dektyarev che fu collaudato dal 37 in poi nel corso della guerra civile spagnola. Il Dektyarev non era un'arma propriamente originale perché era più che altro basato sullo MP28 tedesco. L'MP28 tedesco era, indubbiamente, all'epoca, l'arma di quel tipo, il moschetto automatico o pistola metagliatrice o sub-machine gun, come viene detto nei paesi anglosassoni. Dicevo, il Dektyarev differiva dall'MP28 soprattutto nell'alimentazione che avveniva per mezzo di un caricatore a tamburo, anche se questo tamburo terminava in una parte rettilinea che era quella che di fatto giungeva alle soglie della camera di scoppio. Questa soluzione particolare venne mantenuta fino al 1940 quando fu prodotta un'arma più semplice per la quale si erano evitate certe complicazioni costruttive e si era adottato quasi integralmente il sistema a tamburo dell'eccellente mitra suomi finlandese. Il calibro di tutti i mitra sovietici che seguirono era quello da pistola di 7,62 mm, una cartuccia piuttosto antiquata derivata dalla Mauser 7,63 mm che aveva l'insolita la caratteristica di essere fatta a collo di bottiglia. Nessun altro paese ha mai tentato di usare cartucce a collo di bottiglia con i mitra, ma i sovietici lo fecero e tutto andò benissimo. Il calibro è inferiore a quelli solitamente utilizzati, il proiettile è perciò più leggero ma la sua velocità alla bocca è più elevata e alla distanza di tiro per la quale i mitra vengono solitamente utilizzati si nota ben poca differenza nelle prestazioni, cosa molto importante diciamoci la verità. Il PPD-40 non fu prodotto in grande quantità e sembra che solo pochi esemplari siano stati usati in battaglia. Nel 1941, durante l'operazione barbarossa, nell'Unione Sovietica si capì che il mitra era un sistema d'arma, un'arma indispensabile per affrontare l'invasione tedesca. Insomma i mitra avrebbero avuto un ruolo importantissimo in combattimento. Il PPD-40 non era idoneo ad una produzione di massa e quindi si fece subito richiesta di un nuovo modello, di un nuovo progetto. Questo fu concepito dal progettista Spaggin che conservò la soluzione del tamburo suomi e la cartuccia da 7,62 mm ma che per ottenere una rapida e massiccia produzione fece la cosa indubbiamente migliore, ovvero eliminò completamente tutti i fronzoli, tolse di mezzo tutto quello che poteva essere tolto di mezzo. Ne venne fuori il riuscitissimo PPSH o Pepecha modello 41, un'arma che nonostante fosse rudimentale ed avesse un aspetto poco piacevole perché oggettivamente, insomma, siamo sinceri, non è che sia un capolavoro di bellezza il PPSH, diciamoci la verità, tutto è tranne che bello, però come dire, basta che funzioni e sappiamo bene che in guerra le cose devono funzionare. Allora, dicevo, rappresentava il PPSH sotto molti punti di vista una soluzione molto più efficiente di quella dello Sten. Per la fabbricazione del PPSH 41 i sovietici applicarono per la prima volta la lamiera stampata e saldata. Questo semplicissimo mitra, a utilizzazione diretta del rinculo, sparava a colpo singolo e a raffica, era munito di un sistema di sicura molto semplice. Il calcio, contrariamente allo Sten, altra arma elementare per non dire rudimentale, era di legno, ma siamo sinceri, in Unione Sovietica il legno non manca di sicuro, diciamoci la verità. Allora, nei primi esemplari prodotti quando l'invasione sovietica aveva raggiunto il suo apice, le canne erano ottenute da quelle dei vecchi fucili 7,62 mm, dalle vecchie canne dei vecchi Musin Nagant. Risparmiare tempo, risparmiare soldi, usare quello che c'è. Che vi devo dire? La cromatura dell'anima delle canne assicurava la possibilità di sparare un buon numero di colpi anche con queste vecchie canne. Il numero delle parti componenti l'arma venne mantenuto ridottissimo. Le componenti dell'arma, del PPSH, del PPSH, erano l'otturatore, la sua molla, l'eiettore, tre o quattro elementi stampati nel meccanismo del grilletto e poche altre cose. Insomma, con una decina di pezzi ottenevi un eccellente mitra. Che vi devo dire? Facilità di costruzione, economia e praticità d'uso. Allora, le diverse fabbriche di Stato che costruirono il PPSH produssero tra il 41 e il 45 un totale di pezzi di PPSH 41 che si aggira attorno ai 5 milioni. La sicurezza era ad un buon livello, soprattutto perché non vi era alcunché che non potesse funzionare e il mitra in sé era in grado di sopportare i trattamenti peggiori senza subire serie conseguenze. Il caricatore a tamburo, eccone qua alcuni esemplari, eccone qua. Questa è una foto di Stalingrado, sono di Leningrado, scusate, le milizie operaie armate con i PPSH e i loro caratteristici caricatori a tamburo. La parte più caratteristica dell'arma, la parte più delicata, ma ripeto, della quale venera assolutamente una quantità spropositata da usare. Allora, dicevo, quando nel 42 e 43 l'esercito sovietico fu in grado di passare alla controffensiva, non vi era quantità di armi d'affanteria sufficienti per armare tutte le truppe e queste carenze furono sanate assegnando il mitra PPSH 41. Quando da noi chi aveva il Mab doveva pagarsi le cartucce di tasca sua. Insomma, intere unità dell'esercito e gran parte delle forze partigiane nei territori occupati erano armati esclusivamente con quest'arma, col PPSH. L'intera filosofia della tattica sovietica era basata sull'attaccare sempre e in ogni caso. Il mitra è l'arma ideale per questo tipo di guerra. Non è un'arma da usare per il tiro di precisione o per il fuoco di disturbo. Esso è studiato essenzialmente per il combattimento dinamico a distanza ravvicinata ed è così che esso venne utilizzato. La fanteria sovietica fu in grado di sommergere le difese tedesche in una tempesta di fuoco a distanza ravvicinata che Niente era in grado di fermare. Nei combattimenti urbani come a Stalingrado e a Leningrado il mitra si dimostrò insuperabile e fu a seguito di Stalingrado che i tedeschi cercarono di munire i loro mitra di un caricatore doppio perché tenessero il passo con i Pepecha 41 che avevano un tamburo di 71 cartucce. Di fatto i tedeschi fecero essi stessi uso del Pepecha 41 ricalibrando quelli catturati a 9 mm ed applicandovi i loro caricatori. Nonostante queste modifiche il loro uso ebbe successo il che testimonia la bontà dell'arma. C'è anche da dire che come ha spiegato bene John Wicks anche il calibro originale il 7,62 russo era compatibile o equivalente al 7,63 Mauser quindi spesso e volentieri i mitra catturati dalla Wehrmacht furono utilizzati usando il munizionamento tedesco Mauser 7,63 a collo di bottiglia e a quanto pare funzionavano abbastanza bene. In pratica signori che vi posso dire il Pepecha 41 è indubbiamente uno dei simboli dell'armata rossa. Ripeto un'arma rustica, un'arma affidabile, un'arma pressoché indistruttibile, un'arma semplice da costruire, un'arma di cui era ancora più semplice fare la manutenzione, un'arma che necessitava di poche cure, un'arma che trattata con un minimo di cura, con un minimo di attenzione soprattutto quando si trattava del caricatore a tamburo, un'arma che funzionava sempre in qualunque condizione, sempre un'arma assolutamente efficace, efficiente e indistruttibile. Dico una cosa, guardate questa foto qua, notate bene, sono tre soldati dell'armata rossa, uno ha una mitragliatrice Dektyar FDP e due sono dotati del Pepecha. Notate bene signori, una squadra di tre fanti dell'armata rossa da sola era in grado di emettere il volume di fuoco praticamente di un plotone del reggio esercito italiano. Che vi posso dire signori? Cioè il confronto è assolutamente impietoso, da noi i soldati dovevano pagarsi di tasca loro le munizioni del Mab. Mentre nell'armata rossa i Pepecha erano l'equipaggiamento base di interi reparti, di interi compagnie, di interi reggimenti. A quello che ne so io c'erano reggimenti interi armati solo di Pepecha. Va bene, funzionavano solo a distanza ravvicinata, ma c'è santo cielo, ma vi rendete conto che cosa vuol dire un intero reggimento siberiano armato soltanto di Pepecha che combatte per le strade di Stalingrado? C'è anche da dire un'altra cosa, una curiosità. Allora, a testimonianza della bontà del progetto di Spakin c'è da dire che nonostante l'aspetto, vabbè, oggettivamente arcaico, il Pepecha è tuttora un'arma molto efficace perché se girellate un pochino per internet e cercate, cercate su Google PPSH41 slash Iraq e vi salteranno fuori decine e decine di foto di militari americani in servizio in Iraq con a tracolla, indovinate un po' cosa? Questo. Sì, perché il fatto è questo qui. Dopo la Seconda Guerra Mondiale milioni di Pepecha furono messi in giro dall'Unione Sovietica e altri milioni di Pepecha furono prodotti in Cina o nei paesi del blocco comunista perché, ripeto, era un'arma efficace, rustica, di facile uso, di facile manutenzione e soprattutto molto, molto economica a fabbricare. Praticamente, ripeto, un MAB costava quanto? Cinque Pepecha. Succede anche questo. Dicevo, in Iraq gli americani hanno trovato centinaia e centinaia di Pepecha che molto spesso sono stati anche usati contro di loro e i marines americani, insomma le truppe americane impegnate nella controguerriglia vanno pazze. Cioè vanno gli americani in Iraq, vanno matti per il Pepecha 41. Perché? Perché a distanza di 70 anni, no, a distanza di quasi 80 anni, scusate, perché la sua progettazione risale al 1941, noi siamo nel 2019, insomma signori, sono passati quasi 80 anni dalla progettazione e dalla costruzione dei primi esemplari di questa arma. Bene, quest'arma vecchia, concettualmente di quasi 80 anni, è molto apprezzata dalle truppe americane che fanno controguerriglia, che combattono in ambiente urbano, perché è tuttora una delle armi migliori per il combattimento urbano, per il combattimento casa per casa, perché semplicemente spara una gran quantità, spara sempre una gran quantità di proiettili e ha un caricatore a tamburo da 72 cartucce. Insomma signori, un'arma così nel combattimento urbano, nonostante sia vecchia di quasi 80 anni, è dannatamente efficiente e funziona anche bene. Che vi posso dire? Basta che cercate su internet, Iraq, soldati americani, PPSH 41 e lì vedrete i soldati americani, tutti equipaggiati modernamente così, che tengono a tracolla il loro fucile d'assalto e in mano hanno il PPSH pronto per essere usato, a dimostrazione proprio della bontà del progetto originale di spagno, perché dopo quasi 80 anni dalla sua progettazione ancora quest'arma, ripeto, ancora quest'arma in giro per il mondo fa il suo sporco lavoro, funziona, spara e fa la guerra. Tutto qua. Quindi, cari signori, eccolo qua, il moschetto automatico PPSH 41, uno dei simboli dell'armata rossa durante la grande guerra patriotica. Tutto qua. Quindi, cari signori, come sempre, aspetto le vostre considerazioni, aspetto i vostri commenti, fatemi sapere un po' che cosa ne pensate, ditemi se ho detto cose giuste o se ho detto cavolate e come sempre, cari signori, arrivederci al mio prossimo video. Ciao!